Scusate, ma questo è un arabe tutto, è tutto un'acqua, anche perché questo è un arabe qua, questo è un'acqua, scusate, 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 scusate. Vieni tutto avanti, che a me non fanno basta lui, ma non è via. Vai, dritto, 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 vai, 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 vai. Non ho capito perché sono scappato di casa presto, mi hai capito di svegliare. Fare, c'era a quattro cento. Ah, certo. Dritto, 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 dritto. Eh, no, è una durita a quattro cento. A poco però. No, scusate di sotto. C'ha paura che le fai i danni. Dritto così, via avanti. A dritta, vai. Stavo a puntare il calcio. Eh, ma vedo che non c'è la croce più bene dell'attrezzo. Eh? Quella macchina vedo che non c'è la problema però. No, no. Quali? Questa qua. C'è... Ma poi è hight. Eh, quello. Hight! Non si fa più. 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 Che scanta? Non è igualità. antsi sa le pari Minist zawi. Eh, non è igualità. Non si fa più. Un rec компan�se d'una il calcio. Non ci fa più. Non è altmanero come due. Non è altmanero. Non è altmanero domani. Non è altmanero. Non è altmanero mai сколько nonex 해 norovamente niente. Ciao. Ciao, ciao! Ciao, ciao a 결! Grazie